357 precari stabilizzati e il risultato più importante raggiunto dall'ASL Napoli 3 Sud in un anno di attività. Stamattina alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca all'hotel Poseidon, l'azienda sanitaria ha illustrato i progetti messi in campo e le sfide da affrontare. Stamattina a Torre del Greco l'ASL traccia un bilancio di un anno di attività e gli obiettivi riaggiunti, le sfide da realizzare. Siamo qui innanzitutto perché stabilizziamo quasi 350 dipendenti che erano occupati a tempo determinato nell'ASL Napoli 3. Ne abbiamo stabilizzato quasi 160 a inizio anno. Prosegue questo lavoro per integrare il nostro personale perché sapete che siamo sottodotati rispetto alla media nazionale. è in corso un programma straordinario di rinnovo delle tecnologie, risonanze magnetiche, TAC fra Castellammare e Torre del Greco. Sono in atto programmi di ristrutturazione di plessi ospedalieri da Nola a Bosco Trecase. Abbiamo in corso un progetto anche per un nuovo padiglione all'ospedale di Nola. Stiamo lavorando per realizzare un nuovo ospedale a Castellammare di Stabbia nelle ex Terme. In ogni caso la Napoli 3 sta facendo uno sforzo enorme per case di comunità che abbiamo progettato, per centri antidiabete che abbiamo aperto, per l'assistenza psicologica, che è una nuova attività che abbiamo aperto in Campania. Si sta producendo il massimo possibile in un contesto nazionale che è drammaticamente preoccupante per quanto riguarda la carenza di personale medico. In particolare i progetti per l'ospedale di Torre del Greco? La vedo molto vivace lei questa mattina. Per Torre del Greco che vuole sapere? C'è il direttore dell'ASL che le darà tutte le informazioni fino all'ultimo dettaglio, non le chiedono bene. Tra gli obiettivi raggiunti, illustrati dal direttore generale Giuseppe Russo, l'apertura di centri antidiabetici, nuovi punti prelievo, l'implementazione delle vaccinazioni, lavori di riqualificazione in corso nelle strutture ospedaliere. C'è da ristrutturare Nola, c'è da ristrutturare Torre del Greco, stiamo lavorando su Castellammare, siamo le battute finali per la nuova rianimazione a Sorrende. Poi gli impegni futuri e merito del Presidente saranno quelli del nuovo ospedale di Castellammare e il nuovo ospedale della penisola sorrentina. Invece in particolare che cosa si prevede per l'ospedale di Torre del Greco? Per l'ospedale di Torre del Greco, nel rispetto del decreto 103, sarà ristrutturata un'ala intera dell'ospedale per permettere che un PSA, cosiddetto pronto soccorso attivo, risponda a quelli che sono i requisiti di norma e implementazione delle attività sanitarie. L'anno scorso partirono i lavori per sei posti di terapia subintensiva, a che punto si ha? Siamo alle battute conclusive, penso che per settembre avremo a disposizione i locali per far sì che migliori la risposta a un bisogno di salute dei pazienti. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del distretto, ci sono anche tanti disagi per disabili e anziani? Per noi i disabili e gli anziani, quindi parlo di persone fragili, hanno la priorità su tutti e su ogni percorso assistenziale. Per noi loro rappresentano qualcosa di importante. Stiamo implementando tutte le attività territoriali, proprio il discorso delle case di comunità, degli ospedali di comunità, ci permetterà di dare la migliore risposta possibile a difficoltà legate a un bisogno di salute importante.